È stata un'attività molto interessante, è stato divertente partecipare con la classe, anche le domande erano coerenti al programma che abbiamo studiato e pertanto è servito anche come forma di ripasso, quindi possiamo considerarla quasi un'attività istruttiva che speriamo si possa comunque ripetere e il progetto possa essere ampliato anche alle altre classi.